La giornata tipica allo stabilimento cominciava con il bagno, cioè quando si arrivava specialmente i ragazzi, i bambini, appena arrivavi scendevi dall'autobus, arrivavi alla cabina, ti spogliavi ed entravi in acqua. Per noi, per i ragazzi, significava passare la prima parte della giornata in acqua, ma c'era sempre qualcosa da fare perché c'erano le altalene costruite dentro l'acqua, quindi tu potei fare l'altalena e poi tuffarti direttamente in mare dal sediolino dell'altalena. C'erano vari altri giochi di intrattenimento, le barche dello ziotano che erano a disposizione però soltanto di noi della famiglia, gli altri dovevano prendere in affitto. Per cui, come raccontavo a Cristina un po' di tempo fa, per esempio mio fratello saliva sulla barca dopo il bagno e non ne scendeva più. Mia madre era costretta a portargli da mangiare sulla barca, quindi mia madre doveva entrare nell'acqua e portargli da mangiare sulla barca perché mio fratello, parlo di quando era ovviamente ragazzino, si rifiutava di scendere dopo che aveva mangiato ancora in barca e poi appena mamma dava il segnale erano passate le due ore della digestione eccetera eccetera, si poteva rituffare in acqua e quindi si ricominciava a stare in acqua e si usciva dall'acqua a sera. Invece che facevano le mamme? Le mamme cucinavano e avevano i fornelletti a spirito, avevano addirittura alcune si portavano la macchinetta del gas, quella piccola con la bombola, facevano delle cabine, queste stagionali diciamo dello stabilimento quasi dei bungalow, oggi le chiamerebbero bungalow, quindi ci cucinavano poi facevano, lavavano i piatti nelle fontanelle di acqua dolce che noi avevamo, acqua dolce che sgorgava nella scogliera in mezzo all'acqua salata e che uno dei mie zii che era scienziato e geologo aveva diciamo così isolato, era riuscito con delle pompe a tirar fuori questa acqua dolce aveva fatto le prime docce direttamente con acqua dolce e le fontanelle in cui le signore andavano a lavare anche i piatti, quindi facevano proprio, uno si domanda con quale spirito con quale animo non lo so, facevano la stessa vita che facevano a casa, perché molte signore neanche si bagnavano, cioè si portavano più che altro i bambini a fare il bagno, i ragazzi a fare la gita in barca, ma raramente le donne partecipavano a queste cose, quindi facevano praticamente la stessa vita che facevano a casa. Mia madre per esempio no, mia madre si rifiutava di cucinare allo stabilimento e quindi si portava dietro magari la roba già pronta dentro dei tegamini e io ricordo che quella pasta dentro quei tegamini ormai fredda tutta bella incoppata, come si diceva, aveva un sapore meraviglioso che mai più ho risentito, perché come era buona quella pasta lì, nessuno l'ha mai saputa fare. Poi vabbè col tempo allo stabilimento c'era anche la cosiddetta buvette che faceva praticamente servizio bar e piano piano hanno cominciato anche a preparare piatti pronti, c'è un piatto di pasta col pomodoro o con non so zucchine fritte, insomma cose molto familiari e allora qualcuno si poteva sganciare da questo tipo di vita, ma le signore che venivano qua cucinavano, pulivano, spazzavano esattamente come a casa. Cosa facevano gli uomini? Gli uomini per lo più giocavano a carte, a bocce, a tamburelli, ma comunque anche noi ragazzi giocavamo molto a tamburelli. Mi ricordo abbiamo fatto delle gare di tamburelli, per cui io con un mio cugino siamo arrivati a fare più di 600 colpi senza che la palla cadesse a terra. Insomma c'erano tutti questi giochi che intrattenevano le varie persone. Poi c'erano sempre i ragazzi che pretendevano giocare a pallone, ma siccome il pallone finiva sempre sulla testa di qualche anziana signora, poi lì c'erano le proteste, arrivavano i miei ziri dicendo che è proibito giocare a pallone sulla spiaggia, litigi, cose eccetera. Insomma la vita era abbastanza movimentata anche se era così familiare. E poi come il sabato e la domenica c'era invece appunto l'orchestrina, si faceva musica dal vivo. Io ricordo una delle prime canzoni, La Luna rossa, cantata da un cantante che all'epoca mi sembrava molto bello, io ero bambina 4-5 anni, mi sembrava molto bello perché somigliava a papà mio. Io in quel periodo ovviamente adoravo papà.